Presentata questa mattina a Vasto la nuova giunta a Menna dopo che lo stesso primo cittadino aveva ritirato le deleghe e i suoi assessori. Questi ultimi restano gli stessi, così come vice sindaco viene confermata Alicia Fioravante. Cambia solo qualche delega per cercare di rendere più efficiente la macchina amministrativa. La vera novità sono gli otto punti ambiziosi e programmatici che Menna ha stilato con i partiti della maggioranza durante le consultazioni delle settimane precedenti. 8 punti che vedono l'apertura finalmente del parco in località Canale grazie anche agli interventi della provincia, la riconversione di Vallone Maltempo in area Sgambamento Cane ma in un grande parco pubblico, il premio nazionale Mattioli, la possibilità di recuperare la sottostazione di Vasto Marina con un grande parcheggio pubblico, il nuovo bando dell'illuminazione pubblica, illuminazione che dovrà arrivare in tutti i quartieri della città finalmente ma soprattutto sostituire queste lampade e lampade a LED ma questo dal 1 gennaio 2026 scadendo il bando dell'illuminazione pubblica il 31 dicembre del 2025. Un altro progetto che ci sta a cuore importante e che mi preme citare è la possibilità di riconvertire in punta penna un grande lotto di terra gigantesco in parcheggio, centrovisite guidate ambientali e soprattutto osservatorio astrofisico. Sapete che Vasto anche il prossimo anno sarà oggetto del congresso internazionale di astrofisica con oltre 60 scienziati da tutto il mondo. Dunque nessun colpo di scena ma semplicemente un riassetto organizzativo per centrare i nuovi obiettivi per la città e soprattutto per farsi trovare pronti alla prossima tornata elettorale. Grazie Grazie